Perché mi piace lo skate? Perché non lo fa quasi nessuno, è uno sport diverso da tutti gli altri e mi dà un senso di libertà, sai, andare per le strade, correre, il vento che ti va in faccia è velocissimo, bellissimo E' la situazione di una mossa, un trick nuovo, si dice, mi spinge ad andare avanti e continuare E' la situazione di una mossa, si dice, mi spinge ad andare avanti e continuare Qua a Marsala puoi inviare uno skatepark? Ci starebbe bene o lungo perché abbiamo tantissimo spazio ed è tutta inutilizzata Cioè a Marsala non c'è un posto dove i giovani si possono incontrare il pomeriggio a parte di più i soliti posti, due o tre posti E neanche, non è che tu è come l'elettro città, tipo trovi dei posti dove ogni pomeriggio vai e trovi gente A Marsala qui non c'è un posto del genere E servirebbe perché come ho detto prima a Marsala è più bella noia Ogni ragazzo preferisce essere a casa il pomeriggio e uscire per non fare niente Io lo vorrei perché non ci sono spazi dove poter stare insieme in sicurezza Dove non per forza devi stare in locali dove ci siano più grandi, diciamo, per stare tra noi ragazzi Perché è un luogo di incontro per i giovani secondo me, perché a Marsala non c'è in molte cose Non c'è in molte cose da fare, non c'è in molti spazi, anzi sono ridotti sicuramente al minimo Quindi farebbe piacere diciamo uno spazio del genere Anni a chi non fa skate Io vorrei uno skate park a Marsala perché come volevo dire, cioè, perché devo praticare lo skate Non avendo un posto da praticarlo ne ho bisogno Un chiosco, luci e tantissime altre attrazioni Bastano poche rampe per i ragazzi divertirsi, non per forza dobbiamo fare una cosa in grande Ma non immaginerai con un chiosco, come ha detto prima Pep, con tante cose, non solo fermarsi sullo skate Ma essendo pochi i soldi al comune non chiediamo molto Uno spazietto di, non so, qualche 100 metri quadrati, 100 metri quadrati, ci basta Ovunque andiamo, la gente ci caccia, sempre da qualsiasi posto Ed è una rottura, vorremmo uno spazio tutto nostro per i giovani Anche non solo per lo skate, BMX, pattini, qualsiasi cosa io ritrovo per i giovani di Marsala Quattro anni fa con Alessandro Spadaro abbiamo raccolto la media di 2-3 mila firme Sono andati davanti al comune, ma un giorno a me Da dieci anni minimo, che chiediamo, chiediamo, richiediamo I ragazzi emigrono da qua, come io, che non sto andando da questo paese perché non c'è assolutamente niente Cioè la città è bellissima, ma non c'è né un villaggio turistico, né un'università, né un parco, non c'è niente Bisognerebbe innanzitutto pensare ad altri, ecco, pensare ai giovani Se noi ci svegliamo, quindi voi siete primi che state nel governo di contesti dove ci sono un casino di giovani E lì invogliate, perché comunque tutti avete un carisma e una capacità The world I love, the trains I ought to be part of, the wave can't stop Come and tell me when it's time to Wait a minute, I'm passing out, win or lose Just like you Far more shocking than anything I ever knew How about you Ten more reasons why I'm leaving Somebody new Somebody new Just like you Somebody new Far more shocking than anything I ever knew Right on cue Far more shocking than anything I ever knew Grazie E' una vita, che ci proviamo Azione 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 A源 Grazie a tutti.